Ciao Angela, sono Vito e ti voglio raccontare di un viaggio in treno, un viaggio del 2001. Eh sì, allora non c'era ancora la freccia rossa, la freccia d'argento, la freccia bianca. I viaggi duravano proprio tanto, ma devo fare la necessaria premessa. Ero stato alla San Raffaele per una ulteriore operazione, un nome strano, trabeculectomia, solo a parlarne. Non ricordo se ero ottava o la nona volta che finivo in sala operatoria, ma erano i viaggi della speranza e si tentava tutto. E mia moglie mi accompagnava puntualmente, e certo anche con tanti problemi sul suo lavoro, perché lavorando da privati era dura dover lasciare andare il dipendente. Non c'erano leggi che la 104 per i privati non conta, poi figuriamoci, un dipendente con dei problemi da fastidio, altro che la solidarietà, ma questa è un'altra storia. Non era questo che volevo raccontarti. In parole povere, il tempo era limitato. Si partiva la sera con il pullman per arrivare la mattina ed essere ricoverati. Il giorno dopo ti operavano e dopo un giorno ripartivi la mattina presto e una stanchezza indiscibile, ma sempre con la speranza di... Comunque, avevamo appena passato Bologna. Erano appena passate le 12, più o meno, ed era salita una famigliora con dei bambini. Naturalmente a quell'ora nel treno c'era un vociare indiscibile. E io stavo per i fatti miei, sai che vuoi, la stanchezza di quei giorni, l'operazione, le speranze che stavano nel mio cuore, però non raggiungevano alcun risultato, anzi, si andava sempre peggio. E tra il tanto vociare sentivo che i bambini a un certo punto giocavano, vai a tenere due bambini piccolini, fermi in un treno per tanto tempo. La mammina a un certo punto rimproverò i bambini dicendogli, non disturbate il Signore. E a quel punto mi dispiacco, intervenne, e dissi con una voce ben ferma, Signora, i bambini non mi disturbano, i bambini sono una voce di Dio, come fa a tenere legati due bambini per tanto tempo, rispetto a tanti altri che stanno qui a telefonare e a raccontare i fatti loro ad alta voce. Sì, tutti quanti in quel momento, l'attenzione si era posta sul nostro discorso. I bambini si è tornato un po' in silenzio, però credo che capirono quello che io avessi detto, quello che io avevo detto. E dopo un po' iniziarono a darmi confidenza, a chiedermi, Signore, ma perché porta gli occhiali neri? E come dovevo spiegargli al bambino? E perché sono molto stanco e allora porto gli occhiali perché sennò di qua, di là. Ma come, Signore? È mezzogiorno, è presto, come fa ad essere stanco ora? Ora fra poco dobbiamo mangiare. I bambini avevano fame e lì nel treno non era... E ognuno si arrangiava come poteva col panino. Chi voleva andava nel vagon restaurant, ma con quei viaggi a risparmio ti accontentavi del panino. E anche la Signora diede dei panini, credo, ai bambini, che a un certo punto avevano ancora fame. Dicevano, bambina, abbiamo fame, abbiamo fame. La bambina non sapeva come fare per calmarli. E di nuovo, non date fastidio al Signore. Signore, i bambini non mi danno fastidio, lasciateli giocare. E io continuavo a dire. E i bambini si fecero coraggio, ancora di più di prima. Dice, questo Signore ci protegge. Capirono subito che li difendevo. E continuarono a chiedere. Ma perché porta gli occhiare? Ma perché, perché, perché a quel punto porli tentare di spiegargli. Avete presente, disse i bimbi, che potevano avere, credo, dalle voci, uno tre anni, l'altro quattro anni. Erano proprio piccoli. Avete presente i cartoni animati? Allora usavano i cartoni animati della Marvel. Avete presente quel cartone animato in cui c'è quel Signore che gira col cane e con gli occhiali niri, che poi diventa Mr. Devil? Ah, fece uno dei bimbi, quello che legge il libro con le mani. Allora capirono. E non sapevano cosa fare per... Mi davano i giocattolini in mano da giocare. Signora, e guardi questo giocattolo, di pupazzetti, di pelusci, di plastica. E io con loro, e loro contenti, che mi facevano toccare le cose, perché avevano capito che io, come quel Signore del cartone animato, dovevo toccare le cose per capire. Beh, a un certo punto, beh, chiesi a mia moglie se mi accompagnava al bagno. Uno dei bimbi, Signore, Signore, l'accompagno io. Uno dei bimbi, di tre o quattro anni, non so bene quali dei due, Signore, l'accompagno io. In quel momento, ci fu una cosa incredibile. I presenti. I presenti fecero un applauso al bambino, che non sapeva che cosa aveva fatto. Dice, perché questi applausi, ma... Perché sai, poi a un certo punto l'attenzione su di noi si punta sempre, dici, che cosa fa? Quelle persone che hanno... Quel ciclo, che cosa sta dicendo? È normale che sia così. Noi non vediamo gli altri, ma gli altri ci vedono e ci osservano e ci guardano e ci squadrano e ci giudicano e pensano... E pensano male gli adulti, perché il bambino aveva capito. A quel punto, cosa dovevo fare per dire al bambino? E gli si senti, ci vedi, io sono alto e grosso, tu sei piccolino. Se andiamo insieme, cadiamo tutti e due, allora mi accompagna mia moglie. e il bimbo, sì, va bene, aveva capito tutto. La morale? Eh, Angelo, qual è la morale? Per i bambini non c'è differenza. Per i bambini un disabile è uno che ha una difficoltà. Non è marginazione, non è marginato. un bambino capisce prima ed è più facile spiegare ai bambini la diversità, ad educarli, da bambini alla diversità. Perché da grandi non saranno insofferenti verso chi è diverso. va bene. Ti saluto, Angela. Alla prossima.